Ecco, io lo vorrei dire con molta franchezza, dopo ciò che è accaduto in Italia la settimana scorsa. Nessuno pensi che, passato il referendum, o meglio, non passato, con un evidente messaggio politico da parte degli italiani, che hanno considerato quel referendum sbagliato, perché poi ho letto tutte le interpretazioni, come si vince, come si perde, il dato di fatto è che quel referendum è stato considerato un referendum sbagliato dagli italiani e ha votato il 31% delle persone. Bene, dopo questo referendum è fondamentale che nessuno possa pensare che, vabbè, adesso è finita. Adesso la questione ambientale torna in un angolino, non ne parliamo più. Siamo a New York per rilanciare con grande forza e determinazione il fatto che l'Italia è leader nelle energie rinnovabili in Europa, che chiede al mondo che sta nel palazzo di vetro di essere più sensibile a questi argomenti, e chiede di prendere degli impegni partendo dal presupposto che noi per primi siamo pronti a prendere degli impegni.